Si è aperta oggi a Palazzo della Ragione la mostra dell'architetto giapponese Kengo Kuma intitolata Due Carpe, Acquaterra, Villaggio, Città. La mostra rappresenta l'inaugurazione del calendario di eventi della terza edizione della Biennale Internazionale di Architettura Barbara Capochin. Nella conferenza stampa di presentazione sono intervenuti l'assessore Luisa Boldrin, nonché Giuseppe Capochin, presidente dell'Ordine degli Architetti, nonché presidente della Fondazione Barbara Capochin. Grazie a tutti.